nervi dimitrio sipovic vaccine architetto ritornò dalla città alla sua villetta sotto l'impressione fresca della seduta spiritica da poco trascorsa svestendosi e colicandosi sul suo letto solitario madama vaccine era partita per la trinità vaccine prese involontariamente a riandare a tutto ciò che aveva udito e visto una seduta a dirla propriamente non c'era stata e la sera era passata solo in conversazioni paurose una signorina di punto in bianco si era messa a parlare di divinazione del pensiero al pensiero insensibilmente erano passati agli spiriti dagli spiriti alle apparizioni dalle apparizioni ai sepolti vivi un signore aveva letto il pauroso racconto di un morto che si era rigirato nella bara lo stesso vaccine aveva chiesto un piattino e aveva mostrato alle signorine come bisogna discorrere con gli spiriti aveva evocato tra l'altro il proprio zio clavdi mironovic e mentalmente gli aveva domandato non sarebbe tempo per me di intestare la casa al nome della moglie a che lo zio aveva risposto a tempo opportuno tutto è bene molto vedi misterioso e di pauroso in natura meditava vaccine stendendosi sotto la coperta non fanno paura ai morti ma questa incertezza scoccò luna di notte vaccine si girò sull'altro fianco e sbirciò di sotto la coperta la fiammella azzurra del lumino la luce guizzava e a stento rischiarava la vetrinetta delle icone e un gran ritratto dello zio clavdi mironovic appeso di fronte al letto e che se in questa semiospurità apparisse ora l'ombra dello zio valenò nella testa di vaccine no è impossibile le apparizioni sono un pregiudizio frutto di intelletti immaturi ma non di meno vaccine si tirò pur sempre sulla testa la coperta e chiuse più stretti gli occhi nella sua immaginazione baluginò il cadavere rigiratosi nella bara passarono le immagini della zia morta d'un camerata impiccatosi d'una ragazza annegata vaccine prese a scacciar dalla testa i pensieri tenebrosi ma più energicamente li scacciava più chiare si facevano le figure e più paurosi i pensieri e gli si sentì oppresso il diavolo sa quel che è hai paura come un piccolo è sciocco cic 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 batteva dietro la parete l'orologio alla chiesa del villaggio nel cimitero il custode cominciò a suonare era un rintoccolento lugubre che succhiava l'anima per la nuca e il dorso di vaccine corse un freddo formicolio mi sembrò che sopra il suo capo qualcuno respirasse penosamente come se lo zio fosse uscito dalla cornice e vi si fosse chinato sul nipote vaccine si sentì intollerabilmente oppresso nel terrore strissa i denti e trattenne il respiro infine quando dalla finestra aperta volò dentro un maggiolino e ronzò sopra il suo letto e gli non resse e tirò disperatamente il campanello demetrio sipovic was wollen si si sentì di lì a un minuto dietro l'uscio la voce della governante ah siete voi rosalia carlovna si allietò vaccine perché vi disturbate gavrila avrebbe potuto chavrila a voi stessi l'hai lasciato andare in città e gavrila è andata in qualche posto di prima sera non c'è nessuno in casa was wollen si doch io matushka ecco quel che volevo dire già ma entrate non state in soggezione da me è buio in camera entrò la grossa rosalia carlovna dalle guance rosse e si fermò in atteggiamento di attesa sedete matushka vedete ecco di che si tratta che cosa domandarle pensò vaccine guardando di traverso il ritratto dello zio e sentendo come la sua anima gradatamente si avviava uno stato di calma io a dir propriamente ecco di che cosa volevo pregarvi quando domani l'uomo andrà in città non dimenticate di ordinargli che già passi a comprare dei cannellini per sigarette ma sedete dei cannellini bene was wollen si noc ich will io non will nulla ma sedete io penserò ancora che altro è sconveniente per ragazza restare in camera duomo fui io vedo dimetrio sipovic siete un birichino un burlone io ho capito non si dè sta persona per cannellini io ho capito non savia carlovna si volse e uscì vaccine calmato alquanto dal colloquio con lei e vergognoso della sua pusillanimità si trò sul capo la coperta e chiuse gli occhi per un dieci minuti si sentì passabilmente ma poi nella sua testa tornarono a insinuarsi le stesse assurdità e gli sputò cercò a tastoni i fiammiferi e senza aprir gli occhi accese la candela ma anche la luce non giovò all'impaulita immaginazione di vaccine pareva che da un angolo qualcuno guardasse e che gli occhi dello zio ammiccassero la chiamerò di nuovo che il diavolo la porti decise le dirò che sono malato chiederò delle gocce vaccine sono non seguì risposta suonò ancora una volta e come in risposta alla sua scampanellata ricominciarono i rintocchi al cimitero colto da terrore tutto freddo e gli corse rotta di collo fuori della camera e sdegnatosi dandosi del pusillanime volò a piedi scalzi e con la sola biancheria indosso verso la stanza della governante rosalia carlovna prese a dire con voce tremante bussando all'uscio rosalia carlovna voi dormite io già sono malato delle gocce non seguì risposta intorno regnava il silenzio vi prego capite prego e a che proco d'esta meticolosità non capisco in particolare se un uomo è malato come siete delicata e smancerosa però davvero coi vostri anni io a vostra moglia dicerò non lascia in pace una figlia onesta quando vivio dal baron anzig e il baron volse venire da me per fiammifori io ho capito io ho subito capito quali fiammifori e detto al baroness io son figlio onest ah che diavolo me ne faccio io della vostra onestà io sono malato io chiedo delle gocce capite sono malato vostra moglie è donna buona onest e voi dovete amarla ja lei è nobil io non desidero essere suo nemico una sciocca siete ecco tutto capite una sciocca vaccine si appoggiò all'architrave incrociò le braccia e prese ad aspettare che gli passasse la paura di rientrare nella sua stanza dove guizzava il lumino e guardava da una cornice lo zietto non gli bastavano le forze starsene all'uscio della governante in sola biancheria era per ogni verso inopportuno che si doveva fare batteron le due e la paura tuttora non passava e non diminuiva nel corridoio era oscuro e da ogni angolo guardava qualcosa di oscuro vaccine si girò col viso all'architrave ma subito gli parvi che qualcuno l'avesse leggermente tirato di dietro per la camicia e toccato nella spalla che il diavolo ti sbrani roselia carlovna non seguì risposta vaccine irresoluto aprì l'uscio e gettò un'occhiata nella stanza la virtuosa tedesca dormiva placidamente un piccolo lumino da notte rischiarava le prominenze del suo corpo sodo spirante salute vaccine entrò nella camera e sedette su un baule di vimini che stava accanto all'uscio in presenza di un essere dormente ma vivo si sentì più sollevato se la dorma pure la tedescotta pensava starò vicino a lei e quando farà giorno uscirò adesso si fa chiaro presto in attesa dell'alba vaccine si rannicchiò sul baule pose un braccio sotto il capo e si mise a pensare che significano i nervi però un uomo evoluto pensante e intanto il diavolo sa che cosa fa per fin vergogna ben presto ascoltando il quieto ritmico respiro di rosalia carlovna e gli si calmò del tutto alle 6 di mattina la moglie di vaccine tornata dalla trinità e non avendo trovato il marito in camera andò dalla governante a chiederle degli spiccioli per pagare il vetturino entrando dalla tedesca e la vide questo quadro sul letto tutta spampanata dal caldo dormiva rosalia carlovna e a un'attesa da lei sul baule di vimini piegato a ciambella russava quieto nel sonno del giusto suo marito e gli era scalzo in sola biancheria perché disse la moglie e come fosse sciocca la fisionomia del marito quando egli si destò lo lascio raffigurare ad altri io già impotente a farlo depongo le armi